Concludiamo questa parte con l'intervento del Rettore della Cattolica, Professor Franco Anelli, Sistema della Giustizia. Grazie, ringrazio, vi unisco ai ringraziamenti per l'invito, per celerità vengo subito alla questione. Parlare di Sistema della Giustizia, anzitutto, induce a pensare che i termini a volte si svuotano di significato o lo vedono svilire. Giustizia è un concetto filosofico altissimo, è oggetto di fatica di pensatori, attiene al modo in cui deve funzionare una società, al rispetto fondamentale della persona e noi adesso lo dobbiamo intendere però come amministrazione, come numero di giudici, come tempi di soluzione dei processi, come risvolto operativo. Sistema, sistema è una parola che nell'uso dei giuristi arriva dagli idealisti tedeschi, anche qui l'idea della capacità della mente di ridurre la realtà a sintesi, di ordinarla e ancora una volta quando parliamo di sistema della giustizia pensiamo subito al modo della sua amministrazione. Che non è sbagliato perché in realtà poi la giustizia con tutto il suo carico di valore etico e filosofico casca sulla testa del cittadino attraverso un atto di amministrazione, attraverso un atto con il quale si vede riconosciuto o dato torto applicata una sanzione. Allora è importante capire come questa amministrazione della giustizia incide su un sistema socio-economico e può incidere in modo molto pesante e significativo ed è per questo che se ne discute qui. Mi limito a menzionare due documenti, uno della Commissione europea e uno del Tribunale di Milano per dare un'idea della questione perché tutti parliamo e sentiamo spesso parlare di inefficienza. Ma è bene chiedersi se c'è una inefficienza reale, una come dire percepita, quanto è esistente questa inefficienta, se è o non è misurabile, quali sono le origini o le ricadute. Allora il documento dell'Unione europea che è un documento presentato dalla commissaria della giustizia Vivian Reding nel 2013, continua una miniera di dati che ovviamente mi astrò da illustrare, solo due che mi sembrano eloquenti e semplici da cogliere, ma intanto osservo che si conclude con delle raccomandazioni su alcuni aspetti di funzionamento del sistema della giustizia nei paesi che si rivolgono a sei paesi, oltre all'Italia, la Bulgaria, la Lituania, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, cioè paesi di, con tutto rispetto, recente integrazione dell'Unione europea. Ci si potrebbe attendere ragionevolmente che un paese fondatore abbia degli apparati amministrativi di funzionamento di un aspetto organizzativo fondamentale della società comparabili con quelli di altri paesi, non di quelli che più di recente sono stati aggregati. Ma quali sono i dati che vi volevo dire? Uno è quello delle risorse. Secondo questi conti l'Italia va a destinare alla giustizia 50 euro pro capite in media, che è in linea con la media europea. Quindi non è vero che le risorse in realtà manchino. Secondo, la litigiosità. È vero che gli italiani sono così litigiosi. Certo non siamo un popolo pacifico, almeno al nostro interno, un po' di più verso al di fuori dei confini, forse perché intimoriti dell'aggressività dei vicini, ma certamente al nostro interno siamo litigiosi, forse aiutati anche da un numero ridondante di avvocati, che certamente crea un rapporto tra i giudici professionali e gli avvocati, che non ha uguali nel resto dell'Europa. Mentre il numero dei giudici professionali è in linea con la media europea. Ma il numero che vi volevo dire è questo. Quante sono le cause incoming, quelle che entrano nel sistema? La media per numero, per campione di abitanti, è 6,9, che è in media, anzi forse un po' più bassa rispetto a quella europea. Però poi, qual è il numero di casi che sono pendenti? Allora la media è 8,7 e quella europea è 3. Vuol dire che entrano un numero di casi coerenti con quelli che entrano negli altri paesi, ma non si riesce a gestirli. Altri dati, dei quali vi faccio grazie, però dicono che in realtà il sistema si sta attrezzando per riuscire ad accelerare la capacità di smaltimento. Tutto sommato ce la fa a gestire i casi che entrano. È un po' come il debito pubblico di cui parlava prima il professor Sironi. Non riusciamo ad aggredire lo stock. E allora come fare a provarci? Perché questo diventa uno dei punti. Beh, certamente uno strumento di grande importanza è appunto il monitoraggio. E questo è un po' un tabù per la verità nell'ambito di ordinamento giudiziario. Perché è stato dimostrato sempre nel rapporto che ho citato che un monitoraggio efficace del funzionamento degli apparati riduce la durata dei procedimenti. E su questo vale l'altro documento che menzionavo, cioè il bilancio sociale che è stato presentato dal Tribunale di Milano, presentato di recente, che dimostra proprio come, a parte gli aspetti di alta giustizia, il problema dell'amministrazione va affrontato e va affrontato con degli strumenti moderni, con gli strumenti della scienza, dell'organizzazione e delle strutture complesse. Mentre noi andiamo ancora avanti con un ordinamento giudiziario che qualche polvere, qualche grano di polvere da quando è stato approvato ormai l'ha vista accumularsi sulle sue pagine. E invece usare degli strumenti moderni, ovviamente incrementare l'uso dell'informatica, ma anche su questo tutto sommato l'Italia rispetto agli altri sull'uso dell'informatica nei processi non è particolarmente arretrata. E' un problema di organizzazione delle strutture, dei processi decisionali, che diventa estremamente importante e può dare grandi risultati. Credo che sia significativo il fatto che un Tribunale importante, che ha un ruolo in una società con un sistema economico significativo, si ponga a questo problema. Anche perché alle inefficienze si parlava prima della difficoltà di accesso al credito delle piccole e medie imprese. E credo che siano queste che soffrono di più di queste inefficienze, delle difficoltà di recovery dei crediti, dei tempi e dei costi di recupero. Poi altro aspetto di questo rapporto si occupa della business friendliness del sistema e lì i dati sono effettivamente molto negativi, ma non vorrei aggiungere altre lacrime a quelle già spese. E' chiaro che le imprese più piccole sono quelle che hanno meno capacità di ammortizzare le inefficienze, le lunghezze dei processi e via dicendo. Dicevo, penultimo punto che volevo toccare, la inefficienza percepita, perché poi ci si fa una cattiva fama. Per esempio, cito un solo esempio, c'è una cosa che gira per l'Europa, un altro fantasma, che si chiamava Italian Torpedo, il siluro italiano. Non ha molto a che fare con le imprese audaci del rizzo della Prima Guerra Mondiale. Era un sistema attraverso il quale, proponendo una causa di accertamento preventivo della contraffazione di un marchio, se ne ha parlato prima, in Italia, si creava un'elitis pendenza internazionale grazie alla quale chi subiva la contraffazione non poteva far valere le sue ragioni in un ordinamento più efficace. Quindi la logica è, il convoglio è veloce quanto il più lento dei navigli, io con un siluro ben piazzato rallento il convoglio e tutti stanno dietro al processo italiano. Era un problema di che cosa? Di strutture, di amministrazioni, di cancellieri, di soldi? No, era un problema di norme. E qui, per una volta, la Cassazione ha risolto il problema perché, con la sentenza del 2013, ha disinnescato il siluro italiano, che è evidente, non ci faceva fare una bella figura, non rendeva una bella immagine, se rendeva il nostro sistema non candidato a essere ritenuto un luogo di efficienza, ma un luogo di inefficienza, suscettibile di essere sfruttato per finalità opportunistiche, soprattutto nel settore particolare della tutela dei brevetti e della proprietà intellettuale, ma in fondo anche utilizzabile in altri contesti. Quindi essere, come dire, luogo di attenzione per la nostra inefficienza non è certamente un elemento significativo. Allora vengo al punto in chiusura. Lo strumento più importante, in realtà, se, tutto sommato, le risorse economiche ragionevolmente ci sono e non mi paiono i tempi per invocarne di ulteriori. Se la litigiosità non è così indominabile rispetto a quella che riescono a gestire altri paesi, che forse riescono a trovare dei sistemi di soluzione alternativa un po' più efficaci dei nostri. Allora, uno degli strumenti importanti, insieme al monitoraggio di cui dicevo, è avere lo strumento principale che funzioni bene, cioè le norme. Però le norme le fa lo Stato. Questa è materia sicuramente di legislazione esclusiva statale. Ma sono le norme, sono molto importanti queste, perché avere un sistema normativo processuale, anzitutto, malfunzionante, genera effetti assolutamente catastrofici. Una sentenza che arriva a soluzione con una dichiarazione di incompetenza o di mancata decisione del merito è un processo fallito, perché non si sa chi avrà torto o chi ha ragione, sono stati spesi soldi per niente. E anche qui, cito un solo esempio prima di chiudere. Nel 2003 è stato fatto il processo societario, il rito societario, un processo fatto apposta, dedicato a sezioni apposite, che avrebbe dovuto dare tempestiva soluzione all'eliti proprio di tipo societario e commerciale. È stato rottamato come un frullatore malfunzionante, perché non funzionava. Dopo un po' di anni ci si è accorti che non funzionava. Ci si è accorti che non ha avuto costi sociali modesti. Si sono dovute allestire le cancellerie, far fare corsi di aggiornamento ai magistrati, gli avvocati hanno perso tempo a studiare, corsi di aggiornamento di ogni genere. Cause che sono andate non a decisione, perché per effetto di un processo non chiaro si arrivava poi a non arrivare ad una sentenza nel merito. Allora, tutto questo si dimostra che lo strumento, qui anzitutto, non è la risorsa, è l'applicazione di materia grigia che serve per fare delle buone norme. E quella è sostanza rara ma non costa nulla. O ce l'hai o non ce l'hai ed è tipicamente donata. Quello che mi permetto di dire può fare la realtà milanese è far valere il suo rilievo nazionale. Far capire che qui non si gioca solo la partita della durata di una causa per impugnare una delibera di un'assemblea condominiale che interessa i condomini. Si giocano questioni di grande importanza, questioni che riguardano la disponibilità di quelle imprese di cui si parlava ad insediarsi a Milano, altrimenti si stancano e non vengono più. Tra poco ci sarà una grande fiera. Le fiere sono un luogo di commercio e sono un luogo tipicamente di lite. I romani avevano un magistrato apposta che si occupava delle fiere perché sapevano come funzionava in quei luoghi. E quindi anche qui sarebbe bene si pensasse un modo di attrezzarsi se ne parlava in occasione della presentazione del bilancio sociale di questi temi. Quindi il suggerimento che ci si promette di dare è questo. Che ci sia un intervento ma che superi lo slogan giustizia ritardata e giustizia negata. Perché è una giustizia frettolosa come quella che si minaccia di fare per smaltire l'arretrato. È quasi certamente ingiustizia, non negata. E allora, per concludere davvero, vale la pena, credo, di impegnarsi molto in questo sforzo. Anche per una ragione di promozione individuale e personale. Perché, citando dal libro di Daniele, quelli che avranno insegnato a molti la giustizia splenderanno come le stelle per tutta l'eternità. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.